Tra i 150 comuni italiani che per il biennio 2020-2021 sono stati insigniti del titolo di città che legge, in Molise c'è anche Termoli. La città adriatica si affianca a Campobasso tra le destinatarie dell'ambito riconoscimento del Ministero per i beni culturali e per il turismo. L'iniziativa in realtà parte dall'intuizione del Centro per il libro e la lettura d'intesa con ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Si fonda sulla considerazione secondo cui dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità. Molteplici sono i requisiti che Termoli, così come le altre città premiate, ha dovuto garantire. La criticità legata alla presenza in città di una sola biblioteca pubblica, compensata dalla partecipazione dell'amministrazione comunale a progetti nazionali presentati dal Centro per il libro e altre iniziative che coinvolgono scuole, librerie e associazioni. Fondamentale a Termoli su questo fronte la collaborazione tra l'ente pubblico e i privati. Tra questi il ringraziamento dell'assessore alla cultura Michele Barile alle associazioni Casa del Libro e Nati per Leggere. Nella conferenza stampa di stamane lo stesso Barile ha illustrato le nuove iniziative collegate al progetto che contribuisce a rendere Termoli una città che legge. Sì, nel mese di luglio scorso ci è stato riconosciuto e attribuito il riconoscimento di città che legge. Lo step successivo era appunto quello di recepire il patto per la lettura. La nostra Giunta l'ha recepito proprio la scorsa settimana e ora estendiamo l'invito naturalmente a tutti i soggetti presenti sul nostro territorio che possono essere interessati alla promozione della lettura, alla promozione del libro. Un tavolo di coordinamento che abbraccerà un attimino, ripeto, tutti i soggetti della filiera culturale strettamente legata alla promozione del libro e della lettura. Tavolo di coordinamento dalla quale poi nasceranno sicuramente iniziative proprio tese alla promozione della lettura e alla promozione del libro. Sarà un tavolo aperto a tutti, associazioni, istituzioni scolastiche, privati, tutti coloro che sono interessati e hanno realmente la voglia di impegnarsi e di mettere anche delle proprie risorse per la promozione della lettura e del libro.